pronto buonasera grazie grazie di avere retto fin qua io e di solito in situazioni del genere chiediamo sempre agli organizzatori di suonare verso le 10 e mezzo 11 un po perché ci abbiamo un concerto che chiamare rilassato e dir poco qualcuno lo conosce e un po perché insomma fare queste ore insomma voi è un consiglio se vi va di sedervi sdraiarvi sarebbe quasi meglio tanto voglio dire dopodiché dovevamo suonare verso mezzanotte fare una ventina di minuti ora non lo so decidete voi noi si attacca si fa una mezz'oretta poi se volete si va avanti e basta mi piacerebbe cioè mi piacerebbe mi piace e presentarvi simone filippi il marchese antonio aiazzi il maestro beppe brotto con una tampurista di tampurista di eccezione si chiama claudia vincenzi grandioso e andrea chimenti che non ha bisogno di presentazioni buon divertimento sdraiatevi davvero perché noi andiamo tranquilli grazie 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 Sei minuti la vita si fa breve Ogni momento vale Quella donna è il mio amore Quello è il mio figlio La sua musica mi assale Tutte le sue note sono i sentimenti che voglio celebrare Li voglio onorare Quattro minuti si direbbe il tempo in calza Cosa ho fatto di me? Forse sono eterno Forse è solo inverno Il mio fiume l'Arno è scorre Come questa vita Tre minuti Un battito di cia Tutte le cose belle Quelle intese di cuore I cieli al mattino mi hanno dato lo squarcio che avvicino ora Di eterno Due minuti È tempo di provare ad essere attento Si fanno vaghi contorni Stanno sfumando i sensi Il superfluo svanisce Un minuto Questo corpo va lasciato Non ci abito comodo Ho voglia di uscire Di lasciarmi andare finalmente alla natura dell'anima leggera Non costretto Nella mia direzione Nella mia direzione Vedo una coppia di amanti che mi attrae Mi crederanno un bambino E sono sospeso tra Sono sospeso tra Sono Sospeso Mi appoggio nel vuoto sostenuto dal niente Che appare non essere Oppure no, che cosa dico? Questo presente è vivo Eh, eh Io sono 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.